Interpellanza del gruppo consigliere Castellano Libero sull'illuminazione e manutenzione manto asfalto di via Pietro Nenne a Castellano Monti. Prego consigliere Davoli. La forma è sicuramente sostanza, me l'ha insegnata un cugino di mio padre ed è anche una massima massonica, quindi mi fa piacere che il sindaco la ricordi stasera. Qui io non sono un massone però è una massima che mi piace molto. Visto che mi classifichi nei massoni, quindi vai avanti. Io non classifico nessuno, questo non classifico nessuno. Allora l'interpellanza questa è molto semplice, è un'interpellanza diciamo così funzionale, è rivolta al nostro assessore ai lavori pubblici. Come al solito non è che io queste interpellanze me le crei da solo casa, vengo sollecitato dai cittadini, vengo contattato e quindi mi spingono a chiedere. L'interpellanza è chiedere qual è lo stato degli atti e cosa vuole fare l'amministrazione. Qui riguarda l'illuminazione e manutenzione del manto asfaltato di via Pietro Nenni, Castelnuo Monti. Si chiede, sono tre punti molto brevi, se l'assessore ai lavori pubblici Giorgio Severi è a conoscenza della mancanza di illuminazione pubblica in parte di via Pietro Nenni, zona urbana di Castelnuo Monti. Se sono previsti i prossimi lavori per l'installazione di almeno 4-5 punti luce nel tratto mediano di circa 50-60 metri, dove l'illuminazione privata di alcuni condomini non è presente. Ultimo punto, se una manutenzione adeguata del manto asfaltato dissestato in un tratto e con alcune buche pericolose è già stata o meno calendarizzata dall'assessore competente? Tutto qua. Assessore Severi. Allora, buonasera a tutti. Allora, faccio presente, abbiamo preparato una risposta con l'ufficio tecnico perché è dal 2014 che noi chiediamo incontri con i proprietari. Comunque vi leggo quello che è stato preparato dall'ufficio assieme a me. Viene Nenni una strada che doveva essere realizzata dai privati che hanno costruito le case con dominio e quello che è stato fatto come opere di urbanizzazione. In particolare doveva essere realizzata anche la pipa intorno, diciamo in fondo, di ritorno al fondo della strada. Le opere non sono mai state completate dagli allora costruttori. Allo stato attuale la strada non è collaudabile e non ha gli standard minimi per essere classificata comunale. Mancano le larghezze, la possibilità di svoltare in fondo quello che era stato chiesto a suo tempo, manca illuminazione pubblica alla segnaletica perché venga consegnata al Comune, questo dovrebbe essere fatto. Già nel 2014 e nel 2015 sono stati fatti diversi incontri con tutti i frontisti proponendo loro di realizzare un consorzio di strada vicinale per completare le opere mancanti, cioè l'illuminazione, la segnaletica, l'asfaltatura, quello che chiediamo, dividendo in quote di spese in base ai millesimi, in base alla ripartizione che normalmente si fa. Tali incontri però non hanno portato ad una decisione unanime e non si è riusciti a trovare un accordo. Pertanto trattandosi di una strada privata ubicata sui terreni privati, il Comune attualmente non può investire capitale per realizzazione delle opere. non questo qui non ci toglie il fatto che noi lo stesso, qualche buca, la neve e qualche pulizia la facciamo lo stesso. Però non siamo mai riusciti a portare a termine questa possibilità perché questo è quello che poi forse anche il nostro segretario aveva provato anche lui tempo fa, conosce bene gli aspetti della situazione della strada di Via Nenni. Noi anch'io ho provato tempo fa, dico anche i nomi, Cherubini, qualcuno che è venuto a trovare mettetevi, noi siamo disposti a chiamarli, a fare un incontro, però per avere la possibilità di prenderli in carico loro devono fare queste opere e devono essere tutti d'accordo perché basta uno che non è d'accordo, non possiamo questo... Se posso integrare è una strada privata come ce ne sono altre, alcuni che stanno a Monti sulle quali noi abbiamo cominciato a lavorarci partendo da Via Manfredi dove il tuo candidato consigliere aveva creato uno scandalo inesistente, però insomma stiamo cercando di metterle a posto. Quindi abbiamo fatto lì, abbiamo fatto Via Fanti d'Italia, là vicino a Lipsia, Via Pastore, Via Picasso. Stiamo facendo delle operazioni di rendere, perché secondo noi era sbagliato ed è sbagliato che ci sono delle strade mai prese in carico dall'amministrazione, ma negli anni si è creata questa situazione, sulle quali noi non possiamo spendere denaro pubblico. Quindi noi anche lì abbiamo proposto a loro il consorzio dove il Comune poteva dargli una mano a gestirlo, questo consorzio, perché ci permetteva di uscire da quell'impasse lì perché noi non possiamo altrimenti installare né i lampioni, né fare l'asfalto, né fare la fila di ritorno. Probabilmente non riescono a mettersi d'accordo tra di loro e finché non lo fanno noi facciamo fatica a intervenire perché tu dopo potresti fare un'interpellanza perché abbiamo speso soldi pubblici su strade private, quindi è uno dei motivi anche quello, diglielo, chi te l'ha detto, che c'è anche quel problema lì. Quindi noi siamo disponibili però a intervenire con loro, far sì che si possa sistemare, prendere in carico la strada privata, farla diventare strada pubblica. Lo vedo in forma stasera il Sindaco, lo vedo spiritoso. Io volevo ringraziare per la risposta l'assessore, sono quasi soddisfatto, quasi perché in realtà proprio la sua risposta implica anche una critica magari non alla vostra amministrazione ma anche alle precedenti perché se ci sono delle disposizioni e chi fa i lavori non le rispetta il Comune deve intervenire e dire ragazzi qui fate la strada come è prevista, fate il roundabout o la pipa di ritorno, come chiama lei, e poi possiamo intervenire. Cioè lei mi ha detto che la situazione non è regolare, quindi la responsabilità di qualcuno sarà. Allora i condomini proprietari non hanno fatto quello che andava fatto, un'attenta vigilanza degli uffici comunali poteva richiamarli e dire signori dovete fare... Ecco, quindi va benissimo, va benissimo la sua risposta, io ne prendo atto. Volevo solo suggerire questo che mi è stato detto mentre ero lì, quella strada senza uscita potrebbe essere trasformata in una strada con uscita. Ci sarebbe il modo, magari facendolo studiare dai tecnici, di collegarla alla strada di sotto anche perché una strada senza uscita dove magari i mezzi di soccorso devono fare delle manovre strane, questa è solo una mia impressione, poi dopo magari i tecnici possono controllare. Quindi ringrazio questa sera in modo particolare l'assessore. Grazie. Bene, punto 5, interpretate al gruppo consigliare che sono libero.